Le cose belle del Tiger Ma che intro di merda Hi people of YouTube Molto spesso mi capita di entrare in questa catena di negozi denominata Tiger Dove dentro trovate robe, cose Voi entrate con le mani vuote in quel negozio e ne uscite con sacchetti piene di cose Tu non sarai mai cosa hai comprato al Tiger Fin quando non riaprirai il sacchetto a casa tua e dirai Ah ecco cosa ho comprato Ma nel contempo non ti chiederai mai il perché l'hai fatto L'avrai fatto e basta Ecco perché voglio iniziare questa nuova mini serie Dove vi mostrerò le cianfrusaglie, le cazzate, le stronzate che ho comprato E che comprerò al Tiger Iniziamo col primo episodio Sì Una mini batteria Una batteria da tavolo E voi vi chiederete Perché comprate una batteria da tavolo? Non lo so La volevo L'ho guardato E ho detto Cosa? E' una batteria da tavolo E' una cazzo di batteria da tavolo Chi non la voleva una batteria da bambino E' in miniatura La potete mettere sul tavolo Ecco ho fatto E' una batteria Comunque Non perdiamoci in chiacchiere e montiamola Eccola qui Come vedete è una batteria in piena regola Tre tamburi Un piatto E dove sono le bacchette? Ah eccole Erano nei miei capelli Patum Ora fare questa cosa sarà sempre più divertente E' una cazzata Lo so ma Adoro queste cose Io amo il Tiger E' un posto bellissimo Comunque Io l'ho pagata 7 euro E' una cosa bellissima Che metterò di là A fare compagnia Alle mie altre robe da collezione E vabbè Se il video vi è piaciuto Fatemelo sapere Il video finisce qui Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao belli Ciao belli